Ai carabinieri aveva riservato parole non proprio gentili dopo essere stata fermata per i controlli. Poi, una volta portata in caserma per gli accertamenti di rito, aveva tirato fuori uno spray al peperoncino dalla borsa, senza usarlo. Ma tanto è bastato per farla finire sotto processo. Ieri, per una quarantenne romena a DH alle sue iniziali, è arrivata la condanna del Tribunale di Sulmona a 20 giorni di reclusione al pagamento delle spese processuali per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale per il rifiuto in indicazione sulla propria identità personale. La romena si trovava all'esterno di una stazione di servizio e la sua presenza era stata segnalata al centralino del 112 perché, a detta dei passanti e dei clienti, stava dando fastidio agli avventori. I carabinieri, giunti sul posto per controllare di persona la situazione, hanno chiesto i documenti ma la donna avrebbe prima offeso i militari, etichettandoli con un epiteto, sti stronzi, e poi, come se non bastasse, si è rifiutata di declinare le proprie generalità e scattare a quel punto il trasferimento presso la caserma di via Sallustio dove la donna è stata identificata per essere poi deferita all'autorità giudiziaria. È lì che la quarantenne romena ha tirato fuori dalla borsa uno spray al peperoncino anti-aggressione che ha dato a modo ai carabinieri di aggravare l'accusa. In realtà, come dimostrato nel corso del processo, lo spray è stato mostrato dalla donna solo perché stava cercando l'accentino custodito nella stessa borsa. Quella bomboletta, di fatto, non è stata usata contro i carabinieri. Per questo il giudice monocratico Concetta Buccini ha pronunciato la sentenza di assoluzione per il reato di resistenza pubblico ufficiale e contestualmente ha condannato la donna a 20 giorni di reclusione, pena sospesa, per oltraggio a pubblico ufficiale, il riferimento alle parole garbate, si fa per dire, riservate ai carabinieri e per essersi rifiutata di indicare le proprie generalità.